Comitato Nazionale di Radicali Italiani E' una battaglia che in parte i radicali conoscono, almeno quelli che hanno seguito le iniziative che in particolare io, Marco Perduca e Sergio Delia dal 2007 abbiamo portato avanti proprio su una materia che era quella delle leggi. Speciali che sono state fatte di emergenza in materia di violenza degli Stati e che noi anticipammo subito essere in realtà una forma di laboratorio per nuove forme di controllo sociale. Questo è quello che abbiamo denunciato da subito. Subito infatti nei scorsi anni abbiamo visto come cercavano di trasferire alcune regole, la testa era del manifestante, vi ricordate come trasferire quelli che erano stati queste incostituzionali in alcuni casi, pur se nello stato di emergenza giustificate, insomma la solita solfa, interventi nel mondo del calcio. Ciò che si potevano estendere. E' una diffida che viene fatta perché hai fatto dei comportamenti o si presume che tu abbia fatto comportamenti antisociali allo stadio o nel caso sei condannato per reati da stadio, esempio porto il fumogeno allo stadio, è un reato, mi vengono dati dieci mesi di galera e io in quel periodo non posso acquistare i biglietti per nessuna partita di calcio o per nessuna partita anche non di calcio o di hockey organizzata dalle federazioni. Questa è quello che la legge oggi dice. Il problema è che proprio per come è fatta questa legge è se tu 15 anni fa hai portato il fumogeno allo stadio, hai pagato i tuoi dieci mesi di galera o il tuo daspo di tre anni, comunque per come è fatta la legge non potrai mai più comprare un biglietto ed entrare a una partita di calcio o di hockey o quant'altro. Ecco, questa norma che è evidente non vale neanche per i detenuti che hanno commesso reati, mentre invece sul daspo molto spesso stiamo parlando di casi in cui il 50% delle persone, ma anche di più, poi viene assolta e viene annullato questo daspo. Ebbene, gli ultras portano avanti da anni questa battaglia attraverso iniziative giuridiche di denunce fatte nei tribunali e quindi vinte molto spesso nei tribunali amministrativi e nei tribunali ordinari e portano avanti anche un tentativo di dialogo con la politica. Allora, diciamolo subito, non è che il mondo ultras è completamente estraneo alla violenza o comunque a un uso della forza fisica che quindi può prevedere anche quelli che oggi sono secondo il nostro codice dei reati. Però su questo aspetto io come radicale sono stato invitato proprio perché erano memori di quanto solamente noi radicali siamo stati gli unici a dare una mano, poi possiamo pure parlarne dopo eventualmente se ritieni, ci avevano invitato proprio perché volevano essere a me a Perduca di mentalità, cioè ricordarsi la memoria di quello che era stato fatto. Hanno incontrato altri parlamentari che erano lì presenti e insomma su questa base e oggi c'è una battaglia di diritto con degli avvocati che erano presenti in questo teatro a fare un po' da Ciceroni e del confronto tra gli Ultras e i politici che erano presenti, c'erano Vito Grimi del 5 Stelle, c'erano Paolo Cento, c'era Fratelli d'Italia, mi sembra ci fosse anche del PD, Frassitelli, Tullio e c'è stato questo incontro, ecco, sembra una cosa strana, un teatro, il teatro dei servi, quello dove spesso andiamo noi radicali qua vicino a Torre Argentina, Santa Chiara, anzi sì, completamente pieno, con centinaia di persone anche in piedi, tutto in maniera ordinata e devo dire c'era anche però un paradosso, un'iniziativa politica fatta da dei cittadini che però vengono definiti Ultras, era stata per la prima volta da quando io sono passo qua a Larga Argentina accompagnata da due belli cellulari di antisommossa pronti a presidiare non si capisce cosa, visto che c'era un incontro di alcuni cittadini che presentavano una proposta parlamentare a dei parlamentari, quindi siamo veramente, ecco, nella categoria di come e cosa significa poter cambiare le cose. Ricordiamo anche che Mario è un tifoso, tifoso della Roma, frequentatore di Stato, e beh, questo vi sova detto, e accennai appunto a questo impegno dei radicali per questa questione, questa regolamentazione, poi ce ne parli e volevo anche chiederti, ma questo DASPO viene emanato da chi è una pena, una pena accessoria, c'è un giudice, è appellabile, è ripetibile? Ma come le cose vanno in Italia, infatti si sa, ieri non a caso in questo teatro ho potuto fare anche una specie di similitudine tra quella che è, di quelli che sono le categorie in Italia, ultras, detenuti, drogati, immigrati, sono delle categorie che fanno scomparire le persone che ci sono dietro, per cui tutti vengono assimilati, e anche in senso ovviamente disumanizzante da questo punto di vista. Ebbene, noi abbiamo un caso molto analogo a quelli che da radicali trattiamo, per quello sono andato a ringraziare loro per la battaglia di affermazione del diritto, per i diritti di tutti, non solo dei loro, in maniera puntuale, scegliendo una cosa specifica, non chiedendo la rivoluzione, e che stanno portando avanti. Perché? Perché questo DASPO è praticamente una diffida a non andare più allo stadio, con l'obbligo molto spesso di andare a firmare in tutti i giorni in cui la partita viene giocata dalla squadra di calcio in cui sei stato diffidato, a firmare tre volte al giorno nei commissariati di polizia, quindi anche in maniera molto incidente nella libertà personale. Il problema è che questo DASPO viene dato direttamente dalle forze di polizia, cioè dal questore sulla base o di una denuncia o anche, potrebbe capitare, di informativi o di qualcosa di specifico. Cioè, viene prima data questa diffida e poi quando magari la denuncia viene trattata dai magistrati, un anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo, si scopre che quella denuncia era invece da archiviare, quindi non c'era stato un reato, che era il presupposto della diffida. Quindi questo è il motivo per cui si sono anche intesiti i rapporti tra chi rappresenta lo Stato, alla fine la polizia, e chi invece sta lì e magari si sente vittima di un sopruso e quindi si inasprisce. Quindi su questo credo che è anche il messaggio che abbiamo dato ieri, che il governo deve anche, secondo me, ed è quello a cui mi rivolgo, ci sono dei parlamentari che hanno mostrato interesse a questa piccola modifica, veramente piccola, ecco, però il governo dovrebbe capire che c'è una prima mossa da fare, come ieri magari sarebbe stato da semplicemente parlare, rendersi conto che a nessun altro cittadino gli avresti messo delle camionette, ma non perché gli Ultras non potevano fare chissà cosa, ma non stavano lì per quello, erano venuti a presentare una cosa politica. Allora, lanciare un messaggio opposto da parte dello Stato di apertura, di fiducia, su chi invece sta cercando magari di controllare quelli che anche sono gli errori interni, altrimenti rimangono le fazioni contrapposte e si sa in questi casi che nessuna delle due poi alla fine c'è a convenienza. E io ho ricordato anche come nel 2007, quando per la prima volta il centrosinistra fece proprie le tesi che erano state degli anni precedenti dei governi Berlusconi, perché ricordiamolo, quelle leggi di emergenza furono fatte ogni volta con decreto dai governi Berlusconi, tranne nel 2007, quando fu fatta dal governo Prodi, il decreto amato, erano successi fatti dagli ispettori Raciti di Catania, tra parentesi, pochi giorni fa la Cassazione ha messo in discussione la condanna del ragazzo che era stato in qualche modo, da subito si vedeva che era strano che fosse centrato lui come colpevole, ha messo in discussione il fatto che alcune prove evidenti non fossero state esaminate, e quindi per un riesame della situazione, un fatto che sembrava chiuso, e invece proprio perché il diritto a un certo punto forse serviva che passassero un po' di anni perché questo potesse succedere. Ebbene, nel 2007 governo Prodi, decreto amato, e si introducono tutte queste norme ulteriormente repressive, ma anche inutilmente, da cui nascono poi le teste del tifoso di Maroni e quant'altro. Ebbene, gli unici, 20 e altri, che in Parlamento hanno votato contro, allora, furono i parlamentari, tutti, anche quelli socialisti, non quelli radicali, della Rosa del Pugno. E furono gli unici, perché anche quelli degli altri partiti che oggi magari facevano un po' i belli davanti agli ultras, o si erano astenuti o avevano votato a favore. E fu un fatto, l'unico caso in cui la Rosa del Pugno votò come gruppo in dissenso dal governo Prodi. e credo che vada rivendicato. Perfetto, Mario, grazie di questa spiegazione. E ricordo appunto di questo impegno che c'era stato, che poi appunto è un impegno per i diritti anche dei tifosi, come persone, come individui non massificati in questa categoria un po' reietta. E ricordiamo che Mario Staterini è presidente dell'Associazione per la Grande Napoli. Questo è importante, è un impegno che continua anche da pure la sua segreteria di radicali italiani. In questa fase siamo stati entrambi, io e il segretario, impegnati con il lavoro, per cui abbiamo un po' ritardato alcune dossier che avevamo in mano. Però speriamo, abbiamo sentito oggi al comitato un ragazzo di 18 anni, penso da quello che ho capito è scritto, quindi uno dei rari casi di nuove leve, e speriamo appunto che ci sia anche iniziative concrete. Poi c'è stato adesso il successo, il primo, con Niccolò Paoletti sul ricorso per il Vesuvio, in cui appunto c'è anche il compagno che adesso non è nella mischia direttamente, però Rodolfo Viviani tra i firmatari di quel ricorso. Io ricordo quando ho lavorato proprio con Niccolò Paoletti per la realizzazione di quel ricorso, ci siamo imbattuti in quella realtà da una parte italiana che è scritta nelle carte, molto schesso, o nelle carte che mancano, ma anche nella capacità, e questo devo dirlo, di un avvocato, Niccolò Paoletti, che è stato spesso vicino al mondo radicale, se non radicale proprio, anzi, questa sua capacità di riuscire a legare l'input politico che veniva da Marco Pannella, gli elementi anche istruttori, giuridici che gli fornivo io, con quella che invece è la sua arte, un'arte capace di ottenere, proprio in vista dell'urgenza, della pericolosità che ha il rischio del Vesuvio. Se noi denunciamo che c'è un piano di emergenza inesistente rispetto a un rischio che è oggettivamente imminente, potrebbe essere anni, ma comunque è oggettivamente imminente, non può la Corte Europea dei diritti dell'uomo, ed è stata l'intuizione ottima di Niccolò Paoletti, che anticipare quelli che sono i suoi termini. Abbiamo chiesto una procedura accelerata, proprio in ragione di queste motivazioni, e non è un caso che la Corte Europea, anziché impiegare un anno e mezzo, due anni, magari semplicemente per dare l'ammissibilità e poi dare il giudizio, come è il caso dell'altro ricorso che facemmo quando ero segretario della Ligata italiana insieme a Antonio Bultrini, sempre uno dei frutti di quel convegno che facemmo sulla Corte Europea dei diritti dell'uomo qua in Parlamento, nella sala del Refettorio, all'inizio della mia segreteria, beh, noi abbiamo ancora pendente quel ricorso sulle tribune politiche che in Italia non venivano fatte e continuano a non venire fatte, che dovrà decidere, ma la Corte, sono passati un anno e mezzo, ancora non ha dato il via libera, mentre in questo caso Niccolò Paoletti è riuscito, sulla base di questa urgenza, a ottenere una notizia importante, cioè che l'Italia deve presentare una sua difesa, una sua memoria, una sua chiarificazione di qual è lo stato del piano di emergenza, entro il mese di maggio, mi sembra la metà del mese di maggio, quindi veramente complimenti in questo caso alla tenacia di Marco Pannella e della continuità nell'insistere su questo tema e di avermi insistito, diciamo, in quegli anni di mettere a disposizione di Paoletti insomma un po' di lavoro, un po' di istruttoria su questo e veramente complimenti all'Avvocato Niccolò Paoletti, per quello che credo che sarà un evento abbastanza importante anche nella giurisdizione internazionale. Perfetto, grazie Mario Saterini. Grazie a voi.